Il mio ruolo è che cerco di dare la mia esperienza culturale e professionale per un lavoro di equipe. Quindi attraverso questa mediazione cerco di mettere comunque la nostra utenza al suo agio e farli sentire a casa più serene per poter affrontare con un clima di serenità i loro bisogni. Tra i servizi che offriamo c'è per esempio quel orientamento all'ASP della provincia, uffici vari, per esempio il commissariato, il comune, quindi in un certo senso lo sportello diventa un punto di riferimento, un ponte che unisce i migrati con le istituzioni locali, mettendo a disposizione tutte le comunicazioni necessarie e possibili per poter elaborare le richieste dei migrati nei migliori dei modi. Insieme a miei colleghi qui allo sportello cerchiamo comunque di risolvere i problemi che sono diversificati dai nostri beneficiari nei migliori dei modi possibili.